Dunque, video per il mio caro YouTube. Come da storie, sinceramente noi ho i coglioni pieni di persone che comunque non fanno altro che inseguire qualcosa che non vogliono seguire. Regole che sono in realtà semplici ma sono meno convenienti. Coaching online di persone che poi si arrendono, non ce la fanno, fanno scherzi, giocano. Purtroppo io sono un capital a essere la vittima mai. Ma il protagonista di certe cose fantastiche, simpatiche, che possono fare solo un paio di coglioni in generale. Ma ci sta dentro, gli scherzi fanno sempre ridere. Quando però vedo dei ragazzi che non capiscono, che stanno prendendo delle nozioni che sono come fosse scritte nella pietra di Dieci Comandamenti ma interessano determinate altre cose e le ricercano spero che voi guardiate sempre le storie su Instagram perché sono molto importanti come quella di oggi che è stata significativa per tante cose per quanto riguarda la scelta dei materiali per fare un disegno. Io compro la lavagna, la compro col gesso, la compro diciamo lucida con i pennarelli. Faccio una scelta. Prendo l'ardesia, prendo la plastica. Però quando un lavoro viene fuori fatto bene viene fatto bene prima di tutto perché c'è l'impegno, la voglia ma soprattutto perché c'è una gran parte consistente è nella scelta dei materiali. Ora, la storia che ho messo su Instagram è di come vi stanno fottendo ci stanno fottendo, no a me no perché uno sono un pessimo consumatore d'olio una bottiglia potrebbe durarmi veramente una vita poi sono una persona che ormai attenta alle porcherie statali ma più che statali alla merda che viene propinata in Italia per cui l'olio che ha proprietà anti-inflamatoria e antiossidanti se poi è come nel reel che è tirato fuori mio caro amico Fulvio che mi manda del materiale veramente ottimo il fatto che comunque sia l'olio di semi sia venduto come olio di semi Evo, tutto il cazzo che vuoi tu ma in realtà, scusate, l'olio di oliva extravergine sia in realtà olio di semi con clorofilla e betacarotene che miscati insieme spero che voi abbiate visto creano una miscela di qualche cosa che dovrebbe essere simile all'olio d'oliva ma in realtà non lo è è una miscela chimica che costa pochi centesimi e che viene venduta a prezzi esorbitanti questo è come va il mondo oggi se vi hanno fatto già un bel pezzo con quella roba lì e se comunque le proteine molte volte mi sono preso la briga di analizzarle comprese i materiali che a voi piace tanto usare come testosterone, trembolone, decaduravolin e compagnia cantante siano in realtà stati modificati le caramelle non sono più il gusto di una volta i kinder, gli ovetti sono stati cambiati certe cose sono impicciolite come le merendine, le cose oggi si attende al consumo quello consumo massimo per cui poca spesa, tanta resa niente di più sbagliato ma perché non cresco? te lo dico io te che giustamente vuoi farti la tua preparazione vuoi vivere il tuo sogno io ti dico l'ho fatto anch'io perché no? il fatto di avere una base è una cosa che io insisto tantissimo perché una base di allenamento crea una disciplina una predisposizione per quello che sarà perché i problemi comunque di autostima vengono aumentati con gli steroidi ma nessuno frega un cazzo al sistema non interessa che tu impari qualcosa o tu sia qualcosa ci sono ragazzi che vogliono andare sul parco va bene ci vuole il tempo che ci vuole non due o tre mesi e non una genetica che tu sai che sarà ridicola anche con steroidi tante teste di cazzo su questo canale comprese altre persone qui che sono hanno fatto dei canali dei video ultimamente mi fate schifo e giudicando e dicendo facendo tante belle cose poi il segno dell'ombrello quando ti fanno vedere il loro potere economico ti pigliano per il culo se compri l'orologino non mi permetto di fare nomi perché certe ragazze sono permalose e dato che hanno un potere anche per quanto riguarda il mediatico su sta roba qua sarebbe un attimo cancellare questo è quello ma voglio dire la gente capisce io se tutto intende gli algoritmi già ci sono sono qui che attendono che noi diciamo la cosa sbagliata perché non cresci le fonti di carboidrati una volta c'era il riso andate dal cinese ve lo beccate cotto con lo zucchero per diventare più grande qual è la diciamo il crimine meno che fa più danno e che non paga un cazzo nella legge italiana la truffa tranne la truffa allo stato perché se tu truffi lo stato vai a finire in galera c'è ne ho tanti di fianco se tu truffi un tuo coetaneo devi andare per via legale e molte volte non conviene perché per via legale si accende si devono accendere dei mutui ora il riso la gente la pasta la pasta bianca quello e quell'altro le fonti come le fonti quelle nobili quelle che servono il pollo il broccolo una volta parlavo con Marzola mi dicevo io broccolo e pollo non le mangerei mai certo tu non le mangeresti mai perché per fare quello che devi fare devi pasticciare devi prendere a calcino il culo il fegato e il pancreas le bombe faranno il resto il naturale in realtà dovrebbe stare ancora più attento perché le fonti di proteine nobili reali legittime sono veramente preziose guardavo oggi un qualcosa di multiversa dove ci aveva scritto la fonte di proteine più nobile e mi fai vedere il tuo food spring gusto macaco e fango gusto dell'estate e cosa succede? succede che mi sono preso la briga di guardare tante volte in alcune marche quanto collagene quanta merda quanti compound per fare peso e quanta proteina in realtà c'è io sono sempre stato un fautore del pasto solido come venturato perché bene o male il pollo a meno che non lo prendi di un colore strano puzzolente come fanno già aprono le confezioni e mettono tacchini e pollo insieme uno è rosa e l'altro è giallino come se avesse littero e che te ne frega lo vendo lo stesso c'è gente che lo compra le scadenze sono facilmente ritoccabili se ti vendo un olio che non è un olio poi dovrebbe esserci il real spero che lo andiate a vedere e se ti vendo una miscela che ci assomiglia e creo faccio una vera e propria truffa tu pensa che cosa puoi trovare che ne so in una vitamina la vitamina C l'acido escorbico dico io la vitamina C che poi ho i miei metodi per ovviare queste prese per il culo essendo un vecchio che si guarda dalle diciamo avendo lavorato in posti dove la truffa e l'effetto ottico anche con la televisione perché ho fatto il cameraman per un po' di anni all'Inter ho visto tante cose con Fabrizio Corona ho visto tante cose tante cose che si fanno dietro e che si creano mi è capitato di fare voci di calciatori dato che c'era un imitatore non male da una parte all'altra della stanza quando il calciatore era già partito per andare chissà dove e in studio arrivava la mia telefonata stavo dicendo sono convinto di prendere la blesau della valtellina e mi mangio lo zebu sono convinto di prendere il citard ma tu sai che cazzo c'è dentro no sono convinto di prendere x grammi della sostanza mia preferita e non sai che cosa stai prendendo soprattutto quando arriva da internet per cui responsabilità zero l'allenamento mi dicono che devo fare questo questo e quell'altro cedimento tecnico finito questo quello e quell'altro e non arriverai mai a quello che tu devi arrivare sto vedendo genetiche sprecate in tutto anche se volete salire sul palco è legittimo comunque voler poter salire sul palco e da natural ci sono poche persone che hanno quella genetica lì da poter far vedere qualcosa dal natural poi c'è chi pensa di avere genetico come Teotrainer che è stato sta mi dico anche poveretto è stato massacrato dovunque ma perché comunque sia ha pisciato dove non doveva anche perché io dico questo trovare il dopato non è una caccia alle streghe se tu devi fare lo stupido perché sei natural il dopato ha preso ha fatto una scelta e dice dopo questo quello serio dopo questo muro dopo questo ostacolo che ho capisco che la natura non mi vuole dare più niente voglio superarlo per vedere cosa succede se sei una persona intelligente se hai consigli che sono giusti quelli che ti arrivano e quello che vedo sono solamente gente con assi sfasciate sfasciate che comunque cercano di fare qualche cosa perché non vogliono ammettere a se stessi che se prendo qualcos'altro come un SARM non sono naturale ma non conosco il prodotto non conosco il rebound quelli che arrivano da Igor Montalbano e da Martellato piangono ma non vogliono apparire non vogliono testimoniare perché hanno vergogna di dire che hanno fatto uso perché ci sono i loro capi le loro madri i loro padri per cui questi camperanno fare queste cagate fino a quando qualcuno non si romperà i coglioni o succederà qualcosa di grande alla Mascol Denny alla Romano Cocci i motivi per cui non si cresce ve l'ho spiegato sono una valanga di concomitanze che chiaramente a un portato molto portato molto ricettivo possono essere X per una persona che non è già molto portata e molto ricettiva avrà anche un ritorno indietro come ho già detto molte volte davanti a questa parte ci sono dei modi per guardare quello che si quello che noi mettiamo dentro la maggior parte di voi c'è una brancata di superiori che ha già sa già tutto ha già capito gli interessa il fine non gli interessa come si arriva purtroppo sono persone che quando fanno anche il mio di allenamento dopo un po' capiscono che non è quello che gli propone X con la nutella dimagrire con la nutella ma c'è da farsi un culo che il genetico portato fa e tutto va come deve andare come conosce una ragazza e fai quello che devi fare tutto sboccia come deve fare e poi ci sono le cose molto più complicate dove ci vuole più fegato più sforzo ci può essere anche un ottimo risultato non come il genetico chiaramente ma con uno sforzo un'attitudine mentale puoi comunque fare una competizione anche con chi è geneticamente portato ma in realtà diciamo non è focalizzato oggi ci sono un sacco di integratori per il focus io non so neanche che cazzo è ci sono un sacco di roba che non serve a un cazzo al naturale l'unica cosa che posso dire è che tutta questa roba pre during post serve marginalmente per allenarsi ci vuole la grinta tua il post workout il pre workout i sali d'ammonio pippandoti il popper ti fa solo tanto male ti verrà qualche se tu fossi fare uno sforzo dove stai tirando come un maiale per fare uno di quei cazzo di stacchi di merda magari ti viene qualcosa come abbiamo già visto alla persona che sta usando steroidi consiglio due cose che sono quelle consigliabili perché poi altre cose non sono deontologicamente consigliabili anche se sono le preferibili comprare cose da siti mai cercare determinate marche può essere una soluzione un vecchio bastardo come me riconosce qualche cosa di abbastanza valido con le tre cose che Dio ti ha dato una delle più importanti tatto vista e olfatto ma lì è troppo presto e soprattutto tutto quello che è polvere non vale a niente altre diciamo informazioni preziose che magari saranno confutate o qualcun altro prenderà starete a ascoltare altri stronzi che vi racconteranno la rava e la fava su come si magna un sacco e come si arriva a fare qualche cosa che loro non possono mostrare alla prossima che vi raccontare